una bella docu color 12 una bella docu color 12 nel white 12 guarda che d'hp ormai si dice che il buon pelle si è diventato mezzo manager è entrato nel team che fa 3 è entrato a bello a bello a bello mi trovi impreparata bella con stavolta riprendeva no basta poi torni questo che ha fatto dobbiamo passare un'altra idea oppure un'altra immagine oh no sei però un po di fantasia c'è sei mesi che tutti i giorni metti questo non sono sei mesi sono bianzo a due settimane dai questo è un cacchia sai del poscia come lavora ragazzi attenzione si mi è venuto il milazzo mi ha distrutto il puzzle dopo un'ora e 47 minuti che ci giocavo non ci posso fare rilazzo guarda tu me l'hai distrutto e te ne sei andato mi piace che nemmeno rilazzo non mi ha dato dammi un minuto ma l'ha massacrato tu dementi oh si vabbè ma poi c'è risolto te che stai a fare così? eh mi rilascio si rilascio collascio ciao 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 stiamo facendo training alla signorina perchè non riesce ad entrare sul coucher ha bisogno di training sui fax sulle cana mail che ti fai? copri? che no sulla cana mail no tu come dici che c'è un computer quando invece non c'è comunque devi ancora l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto è fatta da tre da tre e basta un po' ah posso flipparlo mica lo sapevo è bravo questo è bravo è bravo basta e stanno anche in un ripio fa un penù ce l'ho finito ti metti su dopo uscate ti metti su dopo ma che c'è Moratti mi porti il tuo caffè mi attimo non ci vuole la padella si prende dal bar potrebbe pure cambiarsi intanto decisori di cornetti eh oh ti bacio porco zio dai noi facciamo per visti dei caffè no è lui con questa telecamera ma fammi vedere le riprese di ieri nooo nooo pure il latte mmmm 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 no 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 no